Juventus, nuove grane per Agnelli, la procura chiede altri mesi di squalifica. Arrivano nuove grane per Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, la procura FIGC ha chiesto ulteriori 20 mesi di squalifica per il secondo filone figlio dell'inchiesta Prisma. Dopo una stagione molto complicata extracampo, continuano i problemi per gli ex membri della dirigenza della Juventus. Infatti, nel corso dell'udienza di primo grado al Tribunale federale nazionale per il filone legato all'inchiesta Prisma, la procura della FIGC ha chiesto 20 nuovi mesi di squalifica per Andrea Agnelli. Dopo i patteggiamenti degli ex dirigenti della Juventus nello scorso 30 maggio, Andrea Agnelli è rimasto l'unico imputato dell'inchiesta. L'ex presidente della Vecchia Signora aveva deciso di non rinunciare al ricorso per il caso Plus Valense ed è stato chiamato a rispondere in udienza anche per questo secondo deferimento. Nel corso dell'inchiesta sul caso Plus Valense, il Collegio di Garanzia dello Sport ha sancito due anni di inibizione per l'ex presidente della Juventus Agnelli. A questi 24 mesi potrebbero essere aggiunti 20 nuovi mesi chiesti dalla procura delle Federcalcio per il secondo filone figlio all'inchiesta Prisma, legato alle manovre stipendi. Rapporti con gli agenti e partnership sospette. Agnelli affronterà domani, 11 luglio, il ricorso al TAR sul caso Plus Valense, mentre nel pomeriggio è atteso il dispositivo del Tribunale con la sentenza di questo secondo deferimento. L'ex presidente della Vecchia Signora rischia dunque una nuova inibizione di 20 mesi, che potrebbero aggiungersi ai due anni già combinati dal Collegio di Garanzia dello Sport. Nelle scorse settimane, invece, era caduta l'accusa di false fatturazioni per l'ex presidente della Juventus. La procura ha archiviato il caso per Agnelli e gli altri ex membri bianconeri, decretando che le cessioni scambi di giocatori non hanno portato nessun vantaggio fiscale ai bianconeri e che non ci sono elementi per il falso in bilancio. In attesa della risposta del TAR sul caso Plus Valense, Agnelli dovrà affrontare anche questo secondo deferimento, in cui rischia ulteriori 20 mesi di inibizione, che sommati alla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport porterebbero a più di tre anni di squalifica.